Variazione del bilancio di previsione 21-23 al documento unico programmazione 2-21-23. Sempre Valentini, la parola. Allora, questa qui è l'ultima variazione di consiglio che faremo nel 2021, perché come sapete si possono fare fino al 30 di novembre. La variazione è solo di parte corrente per un importo di circa 170.000 euro. Allora, in entrata abbiamo 4.300 euro di rimborsi assicurativi, 11.600 euro che il contributo regionale, no scusate, 20.000 euro, perché sono due voci, 20.000 euro che il contributo regionale fondo inquilini morosi incolpevoli. Stessa identica cifra sarà anche in uscita diretta come trasferimento all'Unione, perché gestita dai sociali. 10.000 euro di diritti di segreteria dall'ufficio tecnico, 4.000 euro il contributo regionale fondo mobilità a persone fragili, anche qui avremo una stessa cifra in uscita verso l'Unione, perché gestito dai sociali. 78.000 euro il contributo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, è sostanzialmente il fondo affitti questo. Anche qui avremo un'uscita di corrispondente cifra verso l'Unione, perché è gestione dei sociali. Stessa cosa per il contributo regionale sulle barriere architettoniche, 6.295 euro. Poi abbiamo un maggiore entrata per 12.000 euro, e stessa cifra in uscita come trasferimento all'ASC, che è un contributo per l'uomo che cammina, 2021. Sono 12.000 euro, di cui 10.000 dalla Regione e 2.000 dai Comuni. Poi abbiamo un'entrata come trasferimento compensativo della COSAP, attività turistiche e commerciali, di circa 9.000 euro che arriva dallo Stato, perché come sapete la COSAP anche quest'anno ha avuto delle drastiche riduzioni. In uscita abbiamo circa 1.800 euro per le missioni degli amministratori. Il capitolo delle missioni degli amministratori era zero, abbiamo dovuto rimpinguare perché dobbiamo rimborsare alcune missioni. 14.500 euro sui capitoli del turismo per le manifestazioni, 3.300 euro sui capitoli dei cantonieri per le piccole manutenzioni stradali, poi abbiamo tutti i trasferimenti all'Unione che vi ho detto prima, circa 40.000 euro che vanno aggiunti al capitolo della spalata neve, come tutti gli anni nell'ultima variazione, rimpinghiamo il capitolo sperando di non spenderli, e fine. Per il resto ci sono tutti i trasferimenti, i 12.000 all'ASCA che avevo detto prima, e tutto quello a montare, i trasferimenti all'Unione che riguardano politiche relative al sociale, però hanno una corrispondente entrata. Domande? Davoli? Sì, ne avrei due. Una riguarda l'agenzia speciale consortile teatro, per quei trasferimenti di 12.000 euro, quindi di entrare nel dettaglio. Ma soprattutto, qui facevo notare che in Unione montana è stato rimandato il discorso dell'azienda speciale consortile al prossimo consiglio, perché mi sembra che ci sia un dibattito interno, essendo cambiate in parte le maggioranze politiche, ed erano già emerse criticità, c'è stata una forte critica sui giornali, Redacone non solo, sono intervenute stranamente, questa volta non siamo intervenuti noi come politici, l'avevamo già fatto in Unione montana, avevamo criticato fortemente la gestione della parte che riguarda la cura della persona, e riguarda l'area minori, avevamo giudicato inappropriato il trasferimento, ma non siamo solo noi a dirlo, addirittura in questo caso mi sembra che siano esponenti della sinistra della montagna, la dottoressa Beretti non so come si colloca, però so che è stata appoggiata anche dalla Creonice Pignedoli, che è stata esponente del PC e del PD poi, con una forte critica proprio nel senso che avevamo fatto anche noi. Su questo punto non so se questo trasferimento di 12 mila euro viene deciso questa sera, però visto che è tutto in divenire, ripeto anche la prossima maggioranza sarà almeno leggermente diversa all'interno dell'Unione, non so, ma lo pongo non in senso polemico, in questo caso anche perché 12 mila euro sono una cifra tutto sommato modesta, se in giunta si è valutato che la situazione si sta modificando. Si sono valutate le critiche che sono giunte, ripeto, in questo caso non direttamente da noi, ma che condividiamo, che sono giunte da esponenti della società civile e anzi da operatori specializzati del settore. Ecco, comunque non, ripeto, non vuole essere una polemica, chiedo solamente se non avete valutato di fare qualcosa di diverso. Allora, per quanto riguarda la questione di ciò che è apparso sui giornali, poi dopo se vogliono intervenire il sindaco, il vice sindaco, non riguarda questo trasferimento qui, quindi io non mi addentro, perché non è oggetto di discussione questa sera. E per quanto riguarda il singolo trasferimento di 12 mila euro, allora, è un trasferimento all'azienda speciale consortile, non agenzia speciale consortile, perché? Allora, l'azienda speciale, da vari anni, da quando è nata questa manifestazione che si chiama L'uomo che cammina, che è una manifestazione culturale, quindi non è toccata dalle polemiche che sono uscite ultimamente sulla stampa, gestisce in nome per conto del Comune questa manifestazione. Quest'anno la manifestazione, in occasione anche dell'anniversario dantesco, ha avuto un costo superiore agli altri anni. Una prima tranche di questi soldi che sono stati messi dal Comune è stata trasferita all'azienda con la variazione di aprile, sono 50 mila euro. Poi l'azienda, sapendo che sarebbero arrivati questi contributi, ha provveduto a fare tutti i suoi eventi e tutto quanto. Questi contributi spettano di diritto all'azienda perché la Regione Emilia-Romagna e gli altri Comuni che hanno contribuito hanno destinato questi soldi all'uomo che cammina. Quindi questo trasferimento qui diciamo che è una questione più tecnica che politica, nel senso la Regione ha dato i soldi al Comune per l'uomo che cammina ed avendo l'ASC realizzato l'uomo che cammina, il Comune trasferisce all'ASC. Semplicemente è questo il passaggio. Poi, in merito a tutto il resto, le discussioni che noi stiamo facendo in Giunta, adesso io non approfondisco anche perché non è materia di discussione qui, cioè nel senso non è nemmeno la mia delega, il mio settore. Quindi io mi limito a dire questo e arriva a dire che quanto stiamo provando stasera non tocca minimamente i settori coinvolti nella discussione pubblica che è stata affrontata dalla dottoressa Beretti e da altri. Dico solo due. Uno è l'uomo che cammina. L'uomo che cammina è una delle manifestazioni culturali credo più importanti degli ultimi anni. Quest'anno ha avuto anche una rilevanza su piano nazionale. Sono usciti diversi articoli anche sul Corriere della Sera, sull'inserto culturale del Sole 24 Ore. I fondi che ha citato il mio collega Valentini derivano da una compartecipazione che noi chiediamo ai comuni, noi invitiamo altri comuni, almeno altri due comuni a partecipare, quest'anno erano tre, Vetto, Carpinetti, Rentasso e ciascuno dà quello che può, diciamo da un minimo di 500 mila euro fino a di solito un migliaio di euro. Hanno dato circa 2 mila euro. Un altro finanziatore di questa manifestazione da sempre perché è coprogettata anche con il Parco Nazionale e il Parco Nazionale e poi viene fatto dal Comune di Castelnuovo come capofila la domanda sul bando della legge 37 regionale delle iniziative culturali e quest'anno siamo stati premiati con 10 mila euro. Quindi quelli sono i fondi che di fatto poi vengono dati a chi organizza materialmente e quindi paga coloro che poi partecipano o spese di altro tipo dalla comunicazione agli stampati e quant'altro. Sull'altra questione ribadisco un po' quello che ha detto anche Valentini l'unica mia considerazione è che al di là di qualsiasi parte politica da cui possa venire questo tipo di critica ci sta tranquillamente perché è stata una scelta ed è tuttora una scelta forte quella di avere strutturato un'area socioeducativa all'interno di un'azienda speciale non si tratta solo della tutela minore ma si tratta di una cosa un po' più complessa al di là ripeto di qualsiasi legittimo diritto di critica credo che chi fa queste critiche intanto deve rendersi conto di essere bene informato rispetto alle cose che critica e poi secondo me si deve anche chiedere verso chi sta facendo questa critica verso quale area e come si rischia con poco con delle argomentazioni non propriamente solide di mettere in difficoltà e di dare una percezione di un servizio così delicato rispetto agli utenti rispetto a chi ci lavora perché io a torto ha ragione conosco da ormai 7-8 anni le persone che lavorano in quel settore e vi posso assicurare che sono tutti degli ottimi professionisti e sono tutte persone che tutti i giorni potremmo dire alcuni anche H24 si occupano delle cose più preziose delicate difficili da affrontare nell'ambito dei servizi alla persona e per molte di queste persone vedersi sbattere così sul giornale vi assicuro che non è una critica che viene fatta solo alla politica che può aver fatto delle scelte che possono essere condivisibili o non condivisibili ma è un mettere in discussione il lavoro di persone che tutti i giorni in maniera molto silenziosa anche perché sono vincolati anche all'obbligo della riservatezza e del silenzio tutto quello che fanno stanno lavorando per famiglie minori e non solo per le comunità in una maniera credo assolutamente lodevole poi nessuno è perfetto e tante volte si rischia anche di sbagliare in quei contesti però insomma io ho letto delle delle considerazioni che mi sembrano un po' come dire discutibili proprio sia nel merito che nel metodo ma non vorrei aprire un dibattito perché come ha detto bene Daniele non è questa credo la la sede però io sono un po' preoccupato di questo tipo di modalità di uscire con le critiche in settori così delicati in questo momento storico dove noi sappiamo perché abbiamo dei dati regionali che sono assolutamente allarmanti dopo il lockdown e a causa anche della pandemia noi abbiamo delle fragilità sulla fascia degli adolescenti che stiamo affrontando Enrico credo che sia assolutamente in prima linea su questa cosa è stato forse uno dei primi sindaci almeno per quel che mi riguarda in provincia a porre veramente l'attenzione su queste problematiche e quindi tutte queste persone professionisti che noi abbiamo potuto selezionare assumere in questi anni solo grazie al fatto che abbiamo fatto la scelta dell'azienda speciale possono mettersi a lavorare già in modo operativo su queste problematiche io non ho niente da aggiungere se non che di divisioni all'interno della giunta dell'unione non ce n'è anche se è cambiata in parte la compagine perché è intervenuto il presidente dell'unione e il sindaco seri sociali in unione c'è condivisione rispetto a questo percorso che è stato fatto a suo tempo quindi nessuno ancora ha messo in discussione questo per cui insomma mi sento tranquillo il fatto che gli opposti si incontrano e si attraggono cos'è quella logica la destra e la sinistra forza di scappare vi troverete assieme su questa cosa per cui insomma lì sono critiche condivido quello che ha detto rispettabilissime però è necessario prima di uscire di informarsi perché comunque insomma in qualche modo qualcuno era anche consigliere d'amministrazione fino a giugno di quella struttura lì quindi in qualche uscita criticando però prima era in consiglio di amministrazione per cui quando è uscita ha fatto le sue critiche ma insomma sono soluzioni che sono state prese a suo tempo motivandole però avremo modo perché secondo me nell'altro consiglio avremo il bilancio dell'azienda speciale quindi avremo magari più tempo per entrare meglio nello specifico se c'è qualcun altro prego io ringrazio per le risposte che sono esaurienti io sono riuscito anche a capire qual è la posizione di questa maggioranza in modo chiaro quello che posso dire è che appunto ho letto con interesse questa critica forte che è venuta da un'operatrice del settore e non delle peggiori da quanto mi risulta parlando sempre della dottoressa Beretti e questo per quello che riguarda quello che lei ha potuto vedere dall'interno poi come appena detto il sindaco c'è stata un appoggio ulteriore da questa ex membro del consiglio di amministrazione capirete bene che se non lo sanno loro cosa succede all'interno la dottoressa Beretti non è all'interno lei è una professionista che ha partecipato al concorso non al bando per essere iscritta nell'albo per degli psicologi da chiamare nel momento in cui si no interna l'ambiente è una psicologa è una psicoterapeuta è una lavora nel settore quindi sa di quello di cosa parla almeno sa di cosa parla soprattutto poi l'altra dottoressa Cleonice Pignedoli mi è stato detto io non lo sapevo era addirittura membro del consiglio di amministrazione anche lei ha fatto una critica nello stesso senso poi ho letto anche altri commenti ma questi c'entrano meno per quello che riguarda la nostra posizione non è una posizione di critica alle persone agli operatori la nostra posizione come opposizione all'interno dell'Unione Montana in particolare il gruppo Lega e Fratelli d'Italia era una critica allo spostamento alla chiamiamola all'esternalizzazione di questo servizio che doveva rimanere a nostro avviso perché è proprio dei servizi sociali ecco era solo questo non era un attacco alle singole persone o al lavoro che fanno che è un lavoro meritorio è indispensabile soprattutto in questo periodo quindi ci tenevo a precisare che appunto la nostra non è una critica alle persone ma piuttosto una scelta della politica di portare i servizi fuori dai servizi sociali questo servizio importante è fuori dai servizi sociali questo è quanto grazie avremo modo di parlarmi quindi se c'è qualcun altro quindi metto in approvazione il punto 6 chi è d'accordo 12 astenuti 4 immediata esecutività chi è d'accordo 12 astenuti 4 benissimo ultimo punto questo è un'altra un'altra chi è d'accordo